buonasera a tutti abbiamo appena concluso il consiglio dei ministri in cui è stato approvato il primo provvedimento economico di questo governo che si chiama decreto dignità io ve l'avevo promesso avevamo promesso di fare una guerra al precariato alla burocrazia al gioco d'azzardo alle delocalizzazioni l'abbiamo detto e l'abbiamo fatto non voglio fare proclami enfatizzare troppo perché c'è ancora tanto da fare su questi temi però grazie al nostro decreto si disattiva il redditometro lo spesometro prevede adesso un solo adempimento all'anno a fine anno e basta invece di quelle comunicazioni trimestrali semestrali e lo split payment non esiste più per i professionisti che significa dargli un po di liquidità in cassa per affrontare le spese per quanto riguarda la lotta al precariato è la waterloo del precariato è finita l'epoca del precariato senza alcun tipo di ragione abbiamo limitato la possibilità di abusare dei contratti a tempo determinato e abbiamo aumentato le penali quando ci sono gli ingiusti licenziamenti sul contratto a tempo indeterminato significa un po più di serenità poi dovremo abbassare il costo del lavoro lo faremo a fine anno nella legge di bilancio dovremo intervenire su tante cose per le imprese per aumentare ancora di più la stabilità però questo è un primo passo per dire che non possiamo rinnovare i contratti a tempo determinato all'infinito ai giovani ai meno giovani senza dargli un po di serenità le delocalizzazioni per quanti anni per quanti anni nei comizi pubblici vi ho detto che serviva una legge per dire che chi veniva in italia e prendeva soldi pubblici non se ne poteva andare all'estero quando voleva ve l'ho detto per anni l'abbiamo fatto c'è una legge oggi dello stato nel decreto dignità che dice che non solo chi delocalizza ci deve ridare i soldi con gli interessi due quattro volte pari a due quattro volte quello che hanno preso ma in più se prendono soldi e poi cominciano a delocalizzare in parte nei paesi dell'unione europea cominciano a licenziare dipendenti e allora gli chiediamo i soldi indietro con gli interessi e l'ultimo questo è una cosa che che seguivo anche prima di diventare parlamentare oltre cinque anni fa il tema del gioco d'azzardo abbiamo vietato la pubblicità per il gioco d'azzardo c'è chi è preoccupato per i contratti in essere gli abbiamo dato un po di tempo per risolverli ma dopo di che dal giorno in cui entra in vigore il decreto che adesso doveva essere firmato dal presidente della repubblica la pubblicità sul gioco d'azzardo in italia è vietata diventiamo uno dei paesi avveniristici in europa credo siamo il primo paese in europa che vieta totalmente la pubblicità sul gioco d'azzardo io non posso descrivervi l'emozione per quello che abbiamo fatto oggi in consiglio dei ministri certo c'è tanto da fare tanto non voglio assolutamente illudere nessuno però cominciamo a ristabilire un po di dignità un po di civiltà per questo paese rimettiamo al centro le persone rimettiamo al centro le persone con le loro debolezze con i loro problemi e cominciamo ad aiutarle senza più farle cadere in tentazione senza più farle sfruttare è stata una giornata importante perché oltre al decreto dignità abbiamo anche concluso l'accordo d'italia online li avevo incontrati a torino erano disperati lavoratori d'italia online perché l'azienda stava mettendo fuori oltre 300 persone oggi si è trovato un accordo grazie al dottor de camillis a giorgio sorial che hanno seguito questa vicenda al tavolo tutta la giornata sono andato a salutarli quando hanno chiuso l'accordo e gli ho detto che faremo controlli su tutto l'accordo che hanno sottoscritto perché lo stato deve garantire questi accordi e poi è stata anche una giornata in cui abbiamo fatto il tavolo sui riders e abbiamo avviato i lavori per il contratto collettivo nazionale dei riders il primo in europa metteremo al centro le tutele di quei ragazzi e stabiliremo che chi fa il rider deve avere delle tutele altrimenti è illegale la sua assunzione e infine oggi sempre in consiglio dei ministri abbiamo approvato un decreto che riguarda la terra di fuochi abbiamo approvato un decreto che fornisce le imbarcazioni alla guardia costiera libica per aiutare per i salvataggi in mare in libia i migranti e nel decreto dignità abbiamo inserito una norma che aiuta gli insegnanti delle lauree magistrali coloro che per effetto della sentenza del consiglio di stato dovevano essere licenziati e invece in questo momento abbiamo prorogato i 120 giorni gli effetti in modo tale da poter trovare una soluzione per quegli insegnanti che ci stanno a cuore e che abbiamo incontrato in italia in giro per l'italia durante la campagna elettorale oggi è il giorno in cui le cose che ci dicevano che non si potevano fare si sono fatte e questo rappresenta tutta vi spiega tutte le menzogne che ci hanno detto in tutti questi anni non consentite mai a nessuno di dirvi che non si può fare una cosa perché noi siamo la dimostrazione che le cose si possono fare e che i problemi si possono risolvere la domani inizia un'altra era politica per il nostro paese senza pubblicità del gioco d'azzardo con meno precariato meno burocrazia e senza più prenditori che si approfittano dei soldi degli imprenditori vengono qui prendono soldi e poi se ne scappano all'estero un abbraccio a tutti e dobbiamo essere tutti orgogliosi di quello che abbiamo creato come movimento come progetto politico perché stiamo iniziando a fare i fatti e ci abbiamo messo anche poco ciao a tutti